Sivario Strappato, un teatrino piccolissimo con due bambini tumulati lì dietro, nascosti dietro al palco, che danno tutto un anone gotico meraviglioso. Per il nostro spettacolo, un luogo di Ghero, è stata l'atmosfera perfetta per preparare questo spettacolo. Che altro dire, lo spazio è piccolo, però molto accogliente, c'è anche il caffè, se qualcuno lo vuole, ogni tanto ci sono dei bambini che cantano, non sappiamo se sono veri, quindi immagino che siano bambini veri e non siano quei due che... Basta, è tutto molto raccolto ma è perfetto per allestire uno spettacolo. Speriamo che porti anche bene, no? Bene, venite qua, Arezzani.